Dovendo sottolineare quella che è l'importanza della seduzione della donna nel campo cardiovascolare, non si può non ricordare l'entità della patologia cardiovascolare nelle donne, nelle donne anziane, nelle donne dopo la menopausa, ma anche nelle donne prima della menopausa, perché i fattori di rischio di patologia degenerativa e che portano alla malattia dell'astrofaccia, a te lo sclerotico e quindi agli ictus e quindi agli infarti, colpiscono alla stessa maniera il genere maschile e il genere femminile. Ma di questo non c'è una regolata insapevolezza né in termini di quantità né in termini di qualità. Quindi diciamo che questo convegno e tutto ciò che vi catturò oggi che potrà essere detto e fatto, può essere una stimola a una rivoluzione in questo campo, perché spesso al di là del campo della ricerca, che deve essere ancora approfondito, proprio dal punto di vista della consapevolezza delle donne della possibilità di ammalare di cuore, c'è ancora molto molto da fare.